Ciao ragazzi, sono Eri Salcani, Pekitela, è mia sorella, fate i bravi. Eri Salcani, 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 Però è la felicità, ragazzi, iscrivetevi al canale, con i video, dati di modo di emergere come noi che ci stiamo uscendo piano piano. E mi raccomando iscrivetevi al suo canale, al fan club, con la pagina e... ...si e lo putta, io arrivo a salerlo e lo dico, quindi... Mi raccomando è il bene... Facci sentire qualcosa, come va, eh? Tomorrow comes... Aspettate... Friends, I don't know... Tomorrow comes... Tomorrow comes... Tomorrow comes Anche se i brodi is stone, I've got to slide, I'm in the black of... I won't fly E' un po' di nonno E' un po' di nonno Come è Zika? Si, 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 mi, si Ma che è? Ma che è? Buongiorno Allora, ci diamo al prossimo video Magari il prossimo lo facciamo insieme Speriamo Se doveva partecipare in un mio video, però non c'era Bene, faccio Ciao! 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 Ciao!